Ciao a tutti ragazzi, in questo video vi propongo l'alba vista dalla stazione spaziale internazionale loro sono a un'altezza di 398 km di altezza e stanno sorvolando il Messico come vedete siamo sotto agli Stati Uniti, questa invece è la telecamera direttamente dalla ISS e dalla stazione spaziale e vedremo l'alba, sta guardando esattamente in basso, verso il pianeta Terra, verso il Messico e ne vedremo l'alba nel momento che vedremo anche qui l'alba, notate questa riga qui, ok? è il terminale, ovvero luce del giorno e buio della notte, va bene? e infatti stiamo quasi per arrivare al terminale se notate delle luci, non parliamo di cose strane ma sono i riflessi della videocamera perché comunque ha un vetro davanti, non è esterna e quindi ogni tanto si vede anche proprio l'obiettivo della videocamera in mezzo perché riflette sul vetro come vedete sta iniziando a schiarirsi e lascio a tutti voi, me compreso, questo bellissimo momento dell'alba sulla ISS per la ISS Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene. Abbiamo appena visto il passaggio sul terminale, luce e ombra, dalla ISS e della ISS. Vi lascio per il prossimo video. Ciao a tutti.